Lei ha raccontato che andando con suo padre in un cinema, nei cassetti romani, una vecchietta l'ha calabbiata parlando di sua nonna, Leda Gis, spiegandole di Ena, perché voi sapete che Gustavo Lombardo ha scusato questa grande vita del mutuo, Leda Gis, una donna straordinaria, qui c'è una storia d'amore in cinema, nel cinema, l'arte, la vita che emita l'arte, una storia molto bellissima, però mi divertiva questa cosa del Dottor Lombardo, che è molto giovane, viene accalabbiata da questo film. Sì, questa cosa è la prima volta che vedevo nonna, che è l'articista, in una maniera, da notizia questa volta, perché adesso va a Gisella, a Lombardi, e la prima volta io vedi il film di nonna, lo vedi in un festival bellissimo, e la cosa bella è stata che ho visto il film di nonna, e vedo la prima volta, a parte le fotografie dei dipinti, o le fotografie dei libri, ho visto un film di nonna, ero molto commosso, ma non solo per me di nonna, vedevo molto commosso perché papà mi sente duro così, che vedevo qua, che stava accanto a me, che piangeva, e vedendo film di nonna, molto ovviamente era del 1930, 19 film, con l'orchestra che suonava sotto, facciamo molto commosso, e quando ero piccolo, avevo 19 anni, 19 anni, e uscendo da questo festival, una vecchietta mi viene da me e fa, senta per favore, scusi, mi fa un fotografo? Guarda, me l'ho guardata, ho fatto, guarda, la pasta dell'acqua, direi, no, no, l'ho mai da lei, ultimamente 100, scusi, e lei è il nipote, perché a me ho delle esercize, ed era la prima volta in vita mia che ho fatto una donna con la città, e non sapevo farlo, anche Guido Lombardo, un bambino stupido, ma non ha fatto tante feste, poi ho detto, papà, c'è papà, non è chiesto, ma che se lo so, guarda, mi ha fatto un sorriso, perché insomma era più commosso di aver visto il film di nonno di questo, ma queste sono le cose belle che ci sono successe, sono le cose che commuovono tanto. Claudio, grazie per aver ricordato questo. Io ricordo che l'Atcanus è andata a Napoli, poi, chiaramente, con quanto c'è stato il fascismo, la centralizzazione del cinema a Roma, e come tante altre città d'Italia, è venuta a Roma. Però i film dell'Atcanus, fatti nell'era del muto, e così via, erano già dei grandi campioni in classe, quindi era proprio un fiuto di famiglie, quello che è successo. Nonno ha fatto i primi stabilimenti, nonno ha inventato la distribuzione nella storia del cinema, è stato un uomo, ha fatto i teatri, ha fatto un po' anche quello che era all'inizio del cinema. Ma anche papà, perché tanta gente non conosce di Alfredo Lombardi come nome, ma tutti si ricordano lo suono di Atcanus, perché papà ha armato, credo, tutta la sua vita, dai quattro, dai sei film, non di più, con Gattopan, Rocco, veramente pochi film. Per lui l'importanza è stato lo studio, sempre stato il studio. Per noi abbiamo come bagaglio di Atcanus, abbiamo 400 film e ne abbiamo distribuiti in 120 anni, l'anno prossimo 1200, che c'è tanto. Sì, tra l'altro, la cosa importante dell'Atcanus è che ha prodotto film di generi diversissimi tra loro, cioè si passa dai film di Piedone con Spencer alla Ciociara, cioè da Rita la Zanzara a questi che ha citato sia il Lombardi e il Littorato di Dio. Voi vede che c'era uno spettro enorme di titoli, di nomi, di talenti, tra l'altro, lo diamo, una cosa importantissima, sono uno scoperto, lo troppo. Sì, papà, papà, papà è più. Insomma, l'hanno rotto. Sì, papà è più. Non lo troppo. Non lo faccio la cosa. E papà ha dato il nome a Sofia Loren, perché si chiama Sofia Loren. E lo vedete anche nel documentario che ha soffiato, barato nel documentario, perché Sofia non si chiama Loren e il nome li ha dato papà perché c'è una tece molto famosa da lei, come si chiama Marta Toren, e papà, per fiare la gente, era chiamata Loren. Perciò, il bordo, come io sapevo ancora la lettera della mamma di Sofia, che ci ha detto che con Bartola e il bordo abbiamo un figlio che era chiamata Loren. La papà era chiamata Loren per sapere la gente che andava al cinema, che andava pure a pezzare andava via Toren invece di via Lore, che era molto bella. Ci sono film in America. Se non fare così veneziano diventata qua. E perciò gli ha cambiato nome e insomma gli ha dato la pelle. Si è rimasta amica da tutta la vita. Si va anche detto che quando tuo padre ha incontrato Loren, già Loren non si chiama più Sofia Ciccoloni, ma si chiamava Sofia Lazzaro. E il motivo per cui la rispondermia da Lazzaro, penso lo sappiate, mi aveva detto Lazzaro, lì così premere, fa le suscite animali. E' meglio allora, penso che sia stata un'ottima intuizione.